musica direzione artistica sembra il cuore che abbiamo noi già perché che cosa c'entra sto coso eh no però quello voleva danzà non si fa non è carino eh vedi che gli girano le palle no ma che è bellissimo e noi dobbiamo affrontare sto coso enorme perché egli ha rifiutato il suo invito eh va bene ci sono un sacco di ostacoli re dei buratti re dei burattini pensavo fosse un uomo il re dei burattini oh no 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 non avevo capito che avrebbe fatto come ho fatto a lisciare le ah 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 aio non c'ho capito un c***o eccolo che si incazza di brutto come il dottor octopus ecco che di nuovo che c***o è stato nonostante abbia fatto alcune parade anche perfette ma non questo quando è che ti posso strunare ho paura ok non lo so non lo so credo che ci sia una fase 2 perché non ha senso che sia morto ah terminato bene bel crossover ok credo che Romeo re dei burattini sia particolarmente porca troia difficile studiamocelo un po' sfruttiamo non andiamo all'attacco così a caso vediamo po' che tipi di attacchi fa e provando a spararne il più possibile ma a quanto pare no andiamo con questo tizio qui che gli raccontiamo a Romeo portacci tua subito con un attacco frenetico ne sono due alle morti con calma e moriamo con dignità a chiacchiere a chiacchiere sono un po' sconsolato due ore later prego figurati nessun problema ma lei non si vede più nulla che sta facendo no non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come viene il difficile? Oh! Bastardo! No, com... Non riesco più a parare. Porca troia. Non riesco più a parare. Non riesco più a parare. ciao proprio se si rompe l'arma pensavo sarebbe stato un po' più semplice non lo stunnerò mai non lo stunnerò mai ai doi ah bene il filo non gli fa niente ma dopo un'ora e mezza dopo un'ora e mezza finalmente mamma mia mamma mia meno ci faccio più che goduria mamma mia un'ora e mezza a provarci mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia